Fino a quando ci sarà Capuano allenatore. Nel calcio non c'è mai un punto d'arrivo. Io dico che poi il voler vincere è un desiderio di tutti. Prepararsi alla vittoria è un privilegio di pochi. Io so benissimo che quando stai facendo bene devi fare benissimo. Quando fai malissimo e fai discreto si dice che nel calcio hai fatto benissimo. Quando entra un subendrante e ti campi alla partita vuol dire che costoro sono sempre sul pezzo. Subendrante, subendrante, subendrante. Io invece la vedo in maniera diversa. Io dico che quando giochi a specchio con un'altra squadra la bravura è quella di portare quanti più uomini in zona palla e magari lasciarne di meno in zona ombra. Io dico sempre che un allenatore a volte deve essere come uno chef. Se vuoi fare, non lo so, i ravioli e hai la pasta al sugo non li puoi fare. Quindi ti devi attenere a quello che sono in questo momento. Soltanto complimenti, veramente complimenti, soltanto complimenti.